Avellino Ucraina, comunità unite nel dolore per la morte di Yurik. Il dramma del 38enne ucraino, rinvenuto cadavere domenica mattina nei pressi di un condominio in via Scandone, ha provocato un abbraccio di profonda solidarietà tra i connazionali di Yurik e gli avellinesi, che in questi anni avevano avuto modo di conoscere e apprezzare i 38enne. L'uomo sposato e padre di un figlio da tempo era ben inserito in città con la sua famiglia. Ancora sotto sciocchi gli amici del condominio di via Scandone, che domenica si sono imbattuti nel corpo privo di vita di Yurik. Il cadavere giaceva a ridosso del garage dello stabile, situato in un'area interna rispetto alla strada principale. I connazionali della vittima sono stati già domenica ascoltati dai carabinieri, collaborando con i militari della compagnia di Avellino per ricostruire la dinamica dell'accaduto, spiegando perché Yurik, che risadeva in un'altra zona della città due giorni fa, aveva fatto loro visita ricostruendo le ultime ore trascorse insieme. La procura sul caso intende fare piena luce. I militari per ora mantengono vivo il fascicolo di indagine. Impegnati a raccogliere più indizi e testimonianze possibili. L'ipotesi più accreditata dagli investigatori sulla natura del decesso porterebbe a un mix di farmaci e alcol, risultati fatali all'uomo. Intanto, dopo una prima ispezione, ieri medico legale Elena Picciocchi, presso l'obitorio dei Moscati di Avellino, ha seguito l'autopsia sul cadavere. Dall'esame effettuato dalla professionista, sarebbero emersi elementi significativi ma parziali, comunque importanti per definire le cause del decesso. Elementi che saranno approfonditi e completati attraverso altri accertamenti di laboratorio. Già dai primi accertamenti Picciocchi non ha avuto comunque dubbi sulle origini della tragedia. Per ora per cautela rispetto della privacy, massima riservatezza sulla fine di Yurik, ma la strada che porta la verità sulla morte dell'Ucraino, grazie all'esperienza del medico legale, sembra già tracciata, priva di particolari ombre, e diretta una svolta imminente.